Dove stiamo andando mi scusi? Stiamo andando a Cinecittà. A Cinecittà come mai? Stasera Bascianino che fa l'Ognorri farà uscire il suo primo singolo e saremo in puntata dove? Nella nostra ex casa, prima di ricordi quando vivevamo a Cinecittà. Entriamo a fare una sorpresa ai ragazzi, una brutta sorpresa. La mia presenza non è che penso che siano molto, le parlano tipo oddio, penso si rientra questo. Pensai che culo. E si inizia così, senza luce, al buio. Pronta a fare un make-up pazzesco al buio? Sì, prontissima. Tu, Gio? Con questa torcia? Non c'è una luce. Aiuto! Ma qualcuno ce l'accende? Vediamo. Ma qui fuori che c'è? Io ho chiesto. Secondo me è successo qualcosa. Vediamo. Ma non c'è tipo un interruttore? Anche qui... ma c'è un blackout? No, non c'è qualcosa. Sono qui in a casa. Vendi. Vendi.